L'ho appena messo giù, ma dimmi intanto che cosa vuoi, dimmi adesso che cosa vuoi, adesso, dimmi che cosa vuoi, allora lasciami spiegare, io sono qua per diritto una cosa, è Dello! Oh, oh giuro, tu sai che ti posso uccidere, sì lo so, ma io posso uccidere, posso uccidere i umani molto più facilmente, che cosa?